E' l'annuncio che in moltissimi da una parte all'altra del mondo non avrebbero mai voluto ascoltare. L'esecuzione è avvenuta, dice questa portavoce della prigione in Georgia dove ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita Kelly Gissendaner, una delle 15 donne giustiziate a fronte di 1400 uomini da quando nel 1976 la Corte Suprema Americana ha ripristinato la pena di morte. I familiari attendevano con trepidazione un verdetto più clemente, così come i cittadini che manifestavano fuori dalla prigione. La donna, 47 anni, è stata condannata in qualità di mandante per aver istigato l'assassinio del marito nel 1997. Il suo amante, che ha materialmente ucciso il rivale, è stato condannato all'ergastolo e tra sette anni potrebbe addirittura uscire in libertà condizionata. L'uomo ottenne infatti uno sconto di pena testimoniando in aula contro la sua complice. Solo pochi giorni fa Papa Francesco, parlando al Congresso americano, aveva chiesto l'abolizione globale della pena di morte, poiché ogni vita è sacra, aveva detto il Pontefice. E non solo. Monsignor Viganò, nunzio negli Stati Uniti, aveva affidato ad una lettera il suo appello. Pur non volendo minimizzare la gravità del crimine, scriveva, e manifestando vicinanza alle vittime, tuttavia la imploro, in considerazione delle ragioni che sono state espresse alla Commissione, di commutare la pena per una che esprimerebbe meglio giustizia e misericordia.